Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e finalmente eccoci tornati con i Fantasy Talks. Oggi parliamo di Gothic Fiction e Dark Fantasy. Anche questa sarà una puntata dove uniamo due generi, ma per motivi molto diversi rispetto alla puntata su High e Epic Fantasy. In questo caso non sono generi sovrapponibili per molti aspetti, ma hanno alcuni elementi in comune, alcuni elementi derivativi e per onor di sintesi, insomma, eccoci qua. Possiamo anche dire che il Dark Fantasy è un po' il figlioccio magico della narrativa Gothic, però allo stesso tempo il Gothic esprime e anticipa alcuni elementi che diventeranno popolari all'interno del Dark Fantasy e allo stesso tempo apre quei confini molto sottili che sfoceranno nel genere Horror, pur mantenendo una propria identità che ha esigenze decisamente diverse rispetto sia all'Horror che al Dark Fantasy. L'aggettivo oscuro, infatti, è forse il punto d'incontro tra entrambi i generi, perché è l'elemento in comune più significativo. Ma come sempre andiamo per ordine, quindi partiamo un po' dall'inquadrare che cos'è la fiction gotica e che cos'è il Dark Fantasy. La narrativa gotica, che è ampiamente conosciuta soprattutto per il sottogenere dell'horror gotico, è un sottogenere letterario che combina finzione e orrore, morte, cupezza, mistero e talvolta anche romanticismo. David Punter in The Literature of Terror si riferisce al gotico come un'enfasi sulla rappresentazione del terrificante, un'insistenza preponderante sulle impostazioni arcaiche, un uso prominente del soprannaturale. Insomma, la narrativa gotica è la narrativa dei castelli infestati, delle eroine in preda di indicibili terrori, del malvagio oscuro, di fantasmi, vampiri, lupi e altri mostri. Il significato principale di Koth, nella sua accezione originale, in quel momento era quello di Barbaro come contrapposizione anti-illuminista in un'epoca illuminista. La narrativa gotica, infatti, tende a porre l'accezione sia sull'emozione che su un piacere percepito come reazione ad un certo tipo di terrore, che non ha nulla a che vedere con la razionalità illuminata, servendo quasi come estensione vera e propria del movimento letterario romantico. L'attenzione all'antichità della fiction gotica, qualcosa che a sua volta tuttora si inserisce nel medievalismo consapevole come uno dei temi dominanti del fantasy più contemporaneo, era più una questione di mood, di fatto una ricerca di un vero e proprio effetto emotivo, che di interesse strettamente storico e archeologico, in pratica quella che ora molti definirebbero estetic. Quello che il romanzo gotico offre alle sue eroine sono in realtà paradossi di libertà, sono costrette a diventare prigioniere in modo che il loro valore e la loro importanza possano essere dimostrati, in modo che diventino consapevoli della loro posizione spreggevole e liberarsi delle catene di tale esistenza. È impensabile parlare di gothic fiction senza rievocare anche il movimento romantico, e tutti i passaggi affini come lo stormondrang, ovvero il movimento che pone attenzione quasi come un culto alla sensibilità. La ricerca spasmodica del raggiungimento del sublime è un tema centrale, un sentimento indescrivibile che ci porta oltre noi stessi. La sublimità evocata da un libro, un dipinto o un paesaggio era una particolare miscela di ispirazione e paura, che aveva a che fare con la scala della rappresentazione e le possibilità trascendenti, sentimenti così profondi, complessi e inafferrabili che erano in grado di scuotere l'anima. L'oscurità e il frammentario erano importanti per la letteratura gotica perché, per loro natura, alludevano al non rappresentabile, cioè Dio, invece di pretendere effettivamente di arrestarlo su tela o su pagina. Secondo lo spirito romantico, il giorno è bellissimo, ma la notte è sublime. La definizione che dà della scuola romantica nel 1849 Heinrich Hein è rilevante, non da ultimo come un modo di caratterizzare la successiva evoluzione che sfocerà anche nel fantasy. Cioè, il risveglio della poesia del Medioevo come si era manifestato nelle sue canzoni, immagini e costruzioni, nell'arte e nella vita. Questo, nei loro modi diversi, è quello che Bram Stoker e William Morris stavano facendo entrambi alla fine del XIX secolo. Infatti, proprio alla fine del secolo il gotico cambiò la sua impostazione di richiamo greco-romano, contraddistinta dalla stasi piuttosto gelida di Winkelmann, per arrivare alla furiosa e sessualmente liberatoria violenza sacra in Nietzsche, in Swinburne, in Wilde, o come in The Great Candy Irrational di Dodd del 1859. Una reimmaginazione della cultura classica occidentale, patrimonio che è in effetti una goticizzazione dei suoi presupposti culturali. Il motto era sempre uno, mutatis mutandi. Robert Hume, nel suo articolo sul gotico, scrive che nella scrittura gotica il lettore è tenuto in sospeso con i personaggi e ci si sforza continuamente per scioccarlo, allarmarlo e altrimenti risvegliarlo. Lo scopo del soprannaturale non è quello di esaminare la reazione delle persone nella storia, ma anche di far rispondere il lettore e forse di provocare il pensiero su come avrebbe reagito se fosse stato al posto del protagonista. Questo è un modo nuovo e mai sperimentato prima di esaminare il comportamento umano, dove normalmente potremmo essere in grado di separarci dall'azione della trama. Con il gotico non è così facile e quindi non possiamo fare a meno di confrontarci con i personaggi, a volte con nostro grande disagio. Discendenti del genere gotico che sono confluiti nella letteratura fantasy sono il senso di meraviglia nella fantascienza, la traduzione di una visione di Burke per il sublime in una sorta di linguaggio cosmico, scientifico e materialista. La magia del fantasy è intesa come qualcosa di più di un semplice strumento narrativo. I lettori agiscono seguendo il desiderio di essere esteticamente sublimati in uno stato mentale che non ammette una riduzione razionale completa. E questo potrebbe praticamente essere il manifesto del fantasy. Il gotico è spesso veramente orribile e full of terrors. I fan del gotico, come del fantasy d'altronde, apprezzano sinceramente le misteriosi contorsioni che può comportare attraverso la tenebra membrana della loro immaginazione. Il gotico poi diventa estremamente popolare in epoca vittoriana, non solo grazie ai numerosi autori che ne espandono una produzione sempre più crescente, ma anche grazie ai cosiddetti Penny Dreadful, pubblicazioni seriali popolari a basso costo prodotte nel XIX secolo nel Regno Unito. Tra queste opere spiccano quelle di autori come George W. M. Reynolds, che scrisse una trilogia di romanzi horror gotici, Il Faust nel 1846, Wagner der Wehrwolf nel 1847, Il Negromante nel 1857. Si può dire che i romanzi gotici hanno prodotto variazioni di se stessi, introducendo le creature supranaturali, diverse varietà di mostri e di vampiri. Quindi è corretto intendere che una delle maggiori influenze del fantasy di stampo dark getti le sue radici nella tradizione gotica. Ma direi che è ora di passare invece al dark fantasy. Il termine viene attribuito a Charles L. Grant e Carl Edward Wagner. I libri dark fantasy sono tendenzialmente quelli che contengono alcuni elementi inquietanti e spaventosi dovuti all'influenza del genere horror. Tanto che Brian Stabelford afferma che può essere considerata dark fantasy qualunque opera che cerca di incorporare elementi della narrativa horror nella formula standard delle storie fantasy. Suggerisce inoltre che l'horror soprannaturale ambientato nel mondo reale appartiene al genere del fantasy contemporaneo, mentre se è ambientato parzialmente o completamente in un universo immaginario, allora dovrebbe essere descritto come dark fantasy. E come avevamo visto nelle puntate precedenti, una cosa che secondo me è assolutamente inquadrabile nel fantasy contemporaneo, è che le linee di demarcazione tra un genere e l'altro iniziano a vacillare, iniziano ad assottigliarsi sempre di più, ma anzi la mescolanza di alcuni elementi tipici di un genere che poi vengono incorporati in un altro, sono proprio una delle caratteristiche più importanti del fantasy contemporaneo. Moltissimi scrittori usano il termine dark fantasy o fantasy gotico invece che horror per descrivere le proprie opere, per una serie di conflitti all'interno dell'opera stessa. Forse relegarli all'horror evoca unicamente quei sentimenti di paura e terrore che chiaramente molte di queste opere contengono, ma forse ne è anche un aspetto assolutamente limitante nell'esplorazione dell'aspetto più fantastico, nella costruzione del mondo e delle creature che li popolano. L'atmosfera è sicuramente cupa e tetra, popolata da mostri terrificanti, persone orribili e violenze indicibili, che non possono mai mancare. Nei mondi dark fantasy le ombre racchiudono orrori inconoscibili e una morte orribile è proprio dietro l'angolo, ovunque il lettore guardi. Ma attenzione, perché forse detta così può non avere alcuna differenza con il genere horror, mentre qui ci troviamo in ambito fantasy. Il dark fantasy è considerato una variante del genere horror, ma rapidamente si è trasformato in un genere a sé. La differenza tra i due generi è che gli esseri soprannaturali e i mostri dell'horror, in particolare i vampiri, sono creature potenzialmente comprensive e con motivazione umane. Sono opere fantastiche caratterizzate dalla presenza di uno scenario scuro, fosco o da un persistente senso di paura e orrore, ma che incorpora anche elementi presenti in altri generi fantasy. Altro aspetto che differenzia il dark fantasy dall'horror è l'intento. L'horror ha l'intento di spaventare il lettore, mentre il dark fantasy di solito no, cioè non del tutto quantomeno. Le storie dark fantasy sono ambientate anche in mondi fantasy e questo include mondi secondari, mondi alternativi o mondi secondari all'interno della nostra realtà, dove mondi magici si nascondono nelle nostre crepe, quelle che noi non vediamo. Mentre l'horror puro è più spesso ambientato nel nostro mondo, sfruttando le paure più intrinseche dell'animo umano, che sperimenta i pericoli del quotidiano nascosto o del mondo mondano con alcuni elementi soprannaturali. Le storie che trattano l'orrore con una certa simpatia ed empatia, che potrebbero anche includere il racconto dal punto di vista del mostro, del malvagio o della creatura, possono rientrare in questa categoria, così come le storie dell'orrore che hanno una tendenza più fantastica. Il dark fantasy è talvolta sfruttato proprio per descrivere storie raccontate dal punto di vista di un mostro o che rappresentano una visione più comprensiva degli esseri soprannaturali, solitamente associati all'orrore, rendendo queste storie molto più vicine ai temi del gotico e del fantasy. Anche i protagonisti di entrambi i generi sono diversi, generalmente le impostazioni sono macabre e i personaggi possono essere grotteschi o strani, ma mentre un protagonista horror potrebbe spesso essere una persona normale vittima di queste forze soprannaturali, un protagonista in una storia dark fantasy di solito farà parte del mondo soprannaturale stesso. Quindi quando si ha a che fare con i lupi mannari che perseguitano gli esseri umani o altre creature intente all'omicidio o qualsiasi altra attività soprannaturale che si svolge in un'atmosfera oscura e in tensione, allora si entra nel regno di ciò che è generalmente inteso come dark fantasy. Dark è oscuro, scuro, con poca luce o nessuna luce, è l'assenza stessa di luce. Queste definizioni indicano un mondo pieno di negatività, dove però percepiamo differentemente l'aspetto spaventoso, in quanto lo elaboriamo attraverso gli occhi dell'orrore stesso. Dark fantasy sottolinea i temi dell'orrore, della paura, della morte imminente. La ricerca o l'obiettivo in un dark fantasy è spesso quello di evitare quella morte imminente. Una delle lezioni ricorrenti del gotico è che, sebbene possiamo provarci, non possiamo sfuggire al passato e questa lezione viene tranquillamente incorporata anche nell'ambito dark. In gran parte le tematiche o i conflitti di questo genere voltano le spalle alla possibilità, alle possibilità e alla tradizione del mito greco e romano. È presente invece una serie di temi, di storie e archetipi molto diversi, provenienti dal nord Europa, definendo quasi una nuova mitologia collettiva. Contrariamente al genere fantastico classico, queste opere non sempre utilizzano le creature del folclore occidentale, vampiri, lupi mannari, maghi, fantasmi, morti viventi, ma delle creature derivate dai miti ancestrali, miti gitani per mulengro, miti amerindiani per i manitù, o le ragioni derivate dal fantasy per causare la paura, tipo le fatte di fairies. La sensazione è quella di assaporare il medievalismo della visione gotica come una critica specifica e pungenta alla modernità, come nella scrittura di stampo anche più fantasy di Morris, Lewis, Tolkien, abitando castelli cupi, decorati e architettonici come Mervyn, Peck, T.H. White, o enfatizzando l'orrore dell'indicibile oscuro come in Poe, Dracula di Bram Stoker, o i Cthulhu Mythos di Lovecraft. Andiamo a definire come sempre qualche tratto caratteristico. La presenza della magia. Il livello di magia presente nel dark fantasy è in generale piuttosto moderato. Si parla soprattutto di magia, occulto e paranormale. Questi elementi sono decisamente presenti all'interno di opere dark fantasy. Il paranormale domina, ovviamente, nelle storie dark. Sia dark che grimdark non sono come l'epic fantasy. La costruzione di un sistema magico non è una parte importante della narrazione di queste storie. La magia è lì, ma la sua presenza è intrecciata in modo più sottile nei fili della storia, dove gli elementi fantastici sono forse più rappresentati dalle creature e dal background che dal sistema magico. Addirittura i cattivi che tendono ad usare di più la magia sono sminuiti per la loro dipendenza da essa. La caratterizzazione dei personaggi è estremamente variabile all'interno di questo genere e infatti si passa da livelli alti a livelli molto bassi. Impossibile standardizzare tutto il genere in questo caso. Non sempre le opere dark fantasy si concentrano sul personaggio, ma molto spesso sull'ambientazione, le sensazioni e l'atmosfera. Al centro c'è l'oscurità, ma non la psicologia. Non c'è molto bisogno di personaggi complessi in questo sottogenere, ma alcune storie potrebbero esplorare invece difficili decisioni morali. L'ambiguità morale molte volte è ciò su cui si regge questo gioco. Nel dark fantasy l'eroe può essere schierato dalla parte del male, più spesso del caos che del male, può essere parte del male stesso o si rende conto di essere debole di fronte alle minacce soprannaturali e terrificanti. L'eroe può essere egoista, oscuro, anteporre il suo scopo a tutto, anche alle altre vite umane, delle quali tendenzialmente ha molto poco interesse. Tendenzialmente le trame hanno un basso livello di complessità. Soprattutto il messaggio è sempre molto chiaro, lo scopo della trame è quello di suscitare emozioni, mettere in discussione le certezze del lettore. Riguardo ai messaggi sociopolitici, che invece sono aspetti che avevo lungamente dibattuto negli altri generi, in questo caso ho molti più dubbi. Cioè, da un lato, mettere in luce il punto di vista del malvagio o della creatura orrorifica può essere di per sé considerato un messaggio politico? Lascio a voi la risposta. Il livello di violenza ovviamente è tendenzialmente alto, soprattutto nei libri più recenti, dove evitano la violenza implicita e si dilettano invece nel proporla ai lettori in grandissime quantità. La violenza e la sessualità, se esiste ed è presente all'interno dell'opera, sono spesso strettamente collegate. Ora passerei invece, dopo questa lunga introduzione, ad esplorare invece le opere. Questa è una prima parte di questa puntata, per non renderla anche eternamente lunga, e quindi oggi ci soffermiamo sulla gothic fiction. Diciamo che qui sarebbe doveroso elencarne numerosissime opere di approfondimento, ma farò diversi balzi in avanti e indietro. La strada è lunga e la gothic fiction è solo una delle componenti di questa puntata. L'origine della gothic fiction è da molti attribuita all'autore inglese Horace Walpole. Nel 1764 viene infatti pubblicato Il castello di Otranto, che ha dato il via alla moda della fine del XVIII secolo della narrativa gotica. La prima edizione, rigorosamente anonima, si apre con una prefazione che presenta il libro come una vera e propria storia dell'undicesimo o del dodicesimo secolo, tradotti in inglese per la prima volta e si scusa per gli elementi soprannaturali della narrazione. In Otranto troviamo in forma nascente molti dei topoi e delle convenzioni che sarebbero riapparsi nelle decine e decine di romanzi pubblicati al culmine della moda gotica, quindi intendiamoci più o meno dal circa agli anni 70 dell'Ottocento fino approssimativamente alla fine del 1800. Un'atmosfera lunatica, paesaggi pittoreschi e sublimi, oscurità, crimini sepolti e nascosti e poi ovviamente rivelati all'interno della storia, specialmente se sono crimini o omicidi incestuosi e soprattutto un'attenzione spettrale all'aspetto soprannaturale. Il successo di Otranto dipendeva meno dalla specificità dei suoi trucchi e ambivalenze spettrali e più da un'attenzione dinamica o di una qualità unica in sé, la stessa cosa che Freud definiva uncanny, ovvero il perturbante. Passiamo poi ad Anne Radcliffe che riscuota un grande successo nel 1794 con i misteri di Giudolfo. Segue le vicende di Emily St. Albert che attraversa, oltre a numerosissime disavventure, la morte del padre, terrore soprannaturale in un castello e le macchinazioni di un brigante italiano. Emily è terrorizzata da una serie di eventi apparentemente soprannaturali, ma alla fine del romanzo tutti questi sono stati spiegati come coincidenze o come tentativi deliberati di Montoni, il brigante, di intimidire Emily. La parte gotica del romanzo ne sottolinea la cupezza e il turbamento, ma dai terrori irrazionali veniamo accompagnati alla spiegazione razionale. Emily è l'incarnazione del sentimentalismo, passiva, malinconica ed emotiva, reagisce guidata dalle sue emozioni, ma allo stesso tempo non trascura mai l'obbligo di agire come una signora, la cui essenza è fondamentalmente la conformità a standard di comportamento o morali convenzionalmente accettati. Possiamo considerare gothic fiction, per alcuni aspetti, anche l'abbazia di Northanger di Jane Austen. Qui il gotico funziona esclusivamente come indice della maturità dell'eroina. L'aspetto gotico si ottiene attraverso la parodia che si mescola con l'indagine sul romanzo della sensibilità. I romanzi gotici hanno introdotto importanti novità nel panorama letterario, tra le quali la produzione dei loro mostri soprannaturali, introducendo diverse varietà proprio tra questi. Il vampiro di Polidori nel 1847, che poi diventerà il Dracula di Bram Stoker nel 1897, bestie che si trasformano come Wagner the Werewolf del 1847 di Reynolds e il dottor Jekyll e Mr. Hyde di Stevenson. Ciò che tutti questi mostri hanno in comune è la loro capacità di trasformarsi in altre forme, trasgressive e libere. In Wuthering Heights di Emily Bronte, cioè Cime Tempestose, la vita familiare e l'amore ricevono un'iniezione di spirito baronesco nella passione e nel terrore gotico sotto forma di Heathcliff. E la produzione gotica non si ferma unicamente al romanzo. Cristina Rossetti scrive una lunga ballata chiamata The Goblin Market nel 1862. È chiaro che il gotico per tanti versi era diventato sinonimo di Vittoriano, ma le sue forme molteplici aderivano a quei valori o li criticavano ferocemente. Il panorama tedesco era più vicino e sensibile alla corrente inglese, con il movimento dello Sturm und Drang, associato a Goethe, Schiller e a Friedrich Maximilian Klinger. Ci sono diversi esempi di romanzi gotici dell'Europa continentale, che seguono canoni letterari più specificamente inglesi, The Elixirer des Teufels di Hoffman del 1815, in Francia Meltemoth Reconcilier di Balzac del 1835, La Orla di Maupassant del 1887, in Spagna invece La Sombra di Galdo. Poi questo video non potrebbe ovviamente esistere senza menzionare velocemente, ahimè, Edgar Allan Poe. Il poeta del Horror from the Soul, che attraverso la sua opera ha dipinto nell'immaginario collettivo alcuni degli aspetti più importanti della narrativa gotica. L'eredità di Poe, della gothic fiction e della tradizione della letteratura americana unita alla sua esperienza di vita, costituisce lo sfondo delle sue storie del terrore. Ha ereditato aspetti della tradizione della fiction gotica, ma vi ha importato innovazioni, in modo da penetrare sempre di più nella coscienza umana. Tramite simboli, suspense, narratore in prima persona, un'atmosfera esasperata, Poe fece del suo meglio per dare vita ad un corpo narrativo uniforme, seppur diversificato, intatto, misterioso, che getta il lettore in uno stato di agitazione. Le storie di Poe alimentano il piacere estetico dei lettori, che è un aspetto non mai secondario. Nel ritrarre il male e l'orrore, ottiene una sublimazione e purificazione del mondo interiore dell'uomo. Ad esempio, la caduta della casa degli Usher è un'opera piena di simbolismo. Prendendo proprio la casa di Usher, Roderick Usher e sua sorella come simboli, la casa stessa faceva sentire le persone terrorizzate. Usch è una parola che richiama al silenzio, alle cose non dette, alle cose da tacere. La casa di Usher stessa si trova in un povero ambiente desolato, senza grandi contatti con altre realtà. Una casa isolata e scoraggiante. Il suo stato di rovina ha dato alle persone l'impressione di mancanza di vita stessa, però prendendo allo stesso tempo vita come un personaggio all'interno dell'opera. Ma la fiction gotica entra nell'opera di Poe anche in altri numerosi aspetti. L'influenza del peccato originale del degenerato, nato nel puritanesimo, si può ritrovare molto spesso nei suoi romanzi. Possiamo dire che in qualche modo l'esperienza di vita di Alain Poe confluisce nel risultato letterario, che gli ha fatto scegliere l'orrore come contenuto per la creazione della sua letteratura. Dopo aver letto i romanzi di Poe proviamo sempre una sorta di terrore inimitabile che viene dal profondo del nostro cuore. Concepiamo la profondità del tormento, del senso di colpa per aver violato alcuni codici morali inattaccabili. Quando leggiamo i romanzi di Poe possiamo sentire l'istinto di paura dei lettori verso il soprannaturale, come accade nel suo manoscritto trovato in una bottiglia. Terrore per la morte incombente nella sua La sepoltura prematura. Terrore verso il male dell'istinto umano nel Gatto Nero. Tra tutti i terrori il nulla è il più terribile. Le persone possono temere le cose tangibili, i crimini e le atrocità nella vita reale, tuttavia non sono nulla rispetto al terrore del nulla. Possiamo sentire questo terrore intrinseco e inspiegabile, legati però ad altri aspetti. Quelli che esprimono più un romanticismo scuro da un lato e invece il racconto esperienziale e sensoriale di alcune malattie mentali che solo molto dopo verranno decodificate dalla psicologia, come l'iperestesia, l'ipocondria ed episodi acuti di ansia. Mi dicono dalla regia però che non posso parlare di Poe per sempre, quindi faremo un salto importante in avanti. Un altro autore per me imprescindibile in questa puntata per spiegare il gotico e la sua evoluzione, che poi chiaramente verrà ripresa in modi diversi e trasformata in forme trasformate nel dark fantasy, è Henry James. Surprise, surprise per nessuno! L'autore che forse più di tutti viene associato alle ghost stories. Nel momento in cui Henry James inizia la sua carriera letteraria, molti degli elementi gotici tradizionali si erano spostati o si erano evoluti in forme diverse. Ad esempio i romanzi sensazionali, che hanno dominato in gran parte il mercato editoriale britannico negli anni 60 dell'Ottocento, si basavano su alcuni di questi topoi riguardo segreti illeciti e il lato scuro della vita domestica integrato in famiglie inglesi e nella loro quotidianità apparentemente normale. La prima ondata di romanzi gotici era stata ampliamente utilizzata dagli scrittori inglesi per esplorare le loro anzi xenofobe nei confronti dei paesi cattolici in un'epoca segnata dalla guerra tra Gran Bretagna e Francia. James era molto meno prevenuto, ma non mancava di attingere anche dagli stereotipi introducendo elementi gotici e adattandoli a qualcosa con una forma che potremmo dire più fresca. Ha fondamentalmente interconnesso le caratteristiche del gotico. I fantasmi, come i personaggi delle storie nella sua produzione, sono elementi soprannaturali. Oltre a ciò, i fantasmi sono spesso quelli associati alla presenza di elementi malvagi. La connessione tra quelle caratteristiche gotiche aumenta l'atmosfera legata alla paura. James era ben consapevole sia della lunga storia dei trope gotici, sia del gusto letterario più contemporaneo, votato ad ambienti molto riconoscibili. Ha fatto uso di entrambi in The American, attingendo a questo patrimonio letterario in modo da evidenziare le lacune e le tensioni culturali tra europei e americani. Henry James arricchisce le storie dei fantasmi con le emozioni dei personaggi e le condizioni psicologiche. Una delle domande che affligge perpetuamente i critici di The Turn of the Screw, cioè il giro di vite di Henry James, è se i fantasmi sono reali o se è tutto frutto della degenerazione psicologica della governante, quindi tutto nella sua testa. Il risultato è un allineamento della protagonista di James con l'immagine generalmente accettata di un'eroina gotica e se strettamente visti da un punto di vista del romanzo gotico, i fantasmi sono reali e la governante è intrappolata in una battaglia tra il bene e il male, in lotta per le anime dei bambini. È sconcertata, un po' persa, innamorata e facilmente spaventata. È del tutto possibile che alcune delle sue azioni avrebbero potuto essere pensate in modo più approfondito, ma è quello che è, l'eroina sentimentale di un romanzo gotico innovativo imprigionato in una casa con un mistero che deve essere risolto. Alla governante di James non viene offerta questa protezione magica come se fosse una sorta di grembo simbolico universale, deve combattere per prevalere. E quindi niente, per oggi direi che la puntata finisce qua. Ho fatto un'esplorazione veramente molto veloce, me ne rendo conto di tutta la letteratura gotica e spero che voi mi perdonerete, ma mi serviva per introdurre i temi del dark fantasy. Nella prossima puntata invece percorreremo tutte le opere dark fantasy nello specifico. Questa puntata è stata divisa in due proprio perché l'elenco delle opere dark sono tantissime, l'elenco delle opere gothic erano tante, qua abbiamo veramente molto semplificato e fatto dei salti giganteschi e spero davvero di nuovo che mi perdonerete. Comunque insomma cosa ne pensate intanto di questa prima puntata? Fatemelo sapere nei commenti. Sono molto curiosa di sapere se tra voi ci sono persone che invece sono molto appassionate del genere o se hanno intenzione di esplorarlo. Io direi che per oggi è tutto, vi ringrazio tantissimo di essere stati insieme a me anche in questo fantasy talk e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!